Una fiera per celebrare la Nocciola Piemonte IGP. Mercoledì 22 maggio alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Nocciolando in Alta Langa. I prossimi 15 e 16 giugno Cravanzana vivrà un importante momento di valorizzazione di questo pregiato prodotto promosso da Regina Nocciola, Associazione Produttori di Cravanzana e dal Comune di Cravanzana. Con il contributo dell'assessorato all'agricoltura in collaborazione con l'assessorato al turismo della regione Piemonte, l'ente Fiera della Nocciola e prodotti tipici dell'Alta Langa e l'ente turismo Alba Abra, Langeroero. Il sindaco di Cravanzana Marco Robaldo e Roberto Pace, presidente Regina Nocciola, produttori di Cravanzana. Cravanzana è una piccola comunità di 400 abitanti con una superficie di 800 ettari di cui l'85%, quasi 700 ettari sono ricoperti a noccioleti. Noi, due anni fa, con la manifestazione Nocciolando, abbiamo incominciato questo discorso di promozione, far conoscere la nostra nocciola per il mondo, che tanti non conoscono le virtù organolettiche e pregiate della bontà della nostra nocciola. E ringraziando anche in virtù di questa iniziativa che abbiamo fatto, abbiamo invogliato la gente, i nostri coltivatori, a incominciare a trasformare. Difatti a Cravanzana sono nate già 4-5 aziende che trasformano il prodotto. E anche per questo, in funzione di questa manifestazione che tra parentesi ha avuto un successo notevole qui a Cravanzana nel 2011, in virtù di questo è nata un'associazione che si chiama Regina Nocciola. Sarà un due giorni di assoluto rilievo, sarà il 15 e 16 giugno prossimo. Avremo grandi spettacoli, avremo i migliori artigiani, i migliori commercianti, che produrranno in tutte le declinazioni l'uso della nocciola nella cucina e nel mondo del commercio. Soprattutto avremo, vi svelo in anteprima, chi sarà la nostra Regina Nocciola. Sarà una cunese, sarà Elisa Isoardi, la star di Radio 1 Mattina, già alla prova del cuoco. Soprattutto ricorderemo anche i tempi che furono, di quando le nocciole si raccoglievano a mano. E noi abbiamo l'obbligo di promuoverlo e di perpetrarlo nei tempi, perché è l'unica, è diventata l'unica risorsa di questa Alta Langa. Flavio Bornia, Presidentente Fiera Nocciola e prodotti tipici Alta Langa, si concentra sul turismo enogastronomico. Con Nocciolando, che ha la sua seconda edizione, continua l'attività di promozione della nocciola, che è il prodotto simbolo dell'Altalanga. Un prodotto eccezionale, che abbiamo testato essere la più buona del mondo. Per questo la stiamo promuovendo con l'entiturismo, come territorio complementare a quella del tartufo e dei grandi vini. Un numero di presenze è di ben 67.000 unità, 46.000 erano stranieri. E si sono fermati per più di tre notti in media. Una media che è tra le più alte in Piemonte, il che dimostra che questo territorio è interessante, e quindi vogliamo continuare a lavorare per promuovere la nocciola, soprattutto perché è l'unica prospettiva che rimane per lo sviluppo della nostra economia, in particolare per i giovani che in agricoltura si stanno impegnando con passione. Alberto Cirio, assessore regionale al turismo, svela un importante progetto che lega la trasformazione della nocciola e il mondo dell'istruzione. Gli aspetti produttivi e quindi di creare e di formare dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi che finita la loro carriera da studenti diventino operatori nel settore della trasformazione della nocciola. E' un po' questa la novità con cui abbiamo accolto e sostenuto come Regione Piemonte quest'anno l'edizione di Nocciolando, che è sicuramente un evento straordinario sotto il profilo agricolo, sotto il profilo rurale, sotto il profilo turistico, sotto il profilo inogastronomico, ma non dobbiamo dimenticare che è anche l'occasione per riflettere sul futuro della nostra terra di Langa e soprattutto della nostra Alta Langa che amiamo, che è la terra dei nostri genitori e dei nostri nonni. Avendo io anche la delega in Piemonte all'istruzione, ho pensato che era opportuno, d'accordo con la preside e con tutto il collegio dei docenti dell'istituto professionale cillario, andare a studiare, a ragionare per il prossimo anno scolastico, parliamo naturalmente di quello 2014-2015, di individuare a Cortemiglia la scuola della nocciola. La scuola della nocciola è un progetto che sta all'interno degli istituti professionali previsti dalla normativa italiana e che può formare i giovani imprenditori di domani, quelli che domani decideranno non soltanto di coltivare la nocciola, ma di trasformarla. Così non spopoliamo l'Alta Langa, teniamo vivi i nostri paesi e quindi credo anche che sia importante che tutto parta attraverso la scuola, attraverso l'educazione, attraverso l'istruzione. Il Comune di Cortemiglia, il Sindaco Graziano Maestro, il Vice Sindaco Roberto Podrito hanno seguito tutti i passi di questo percorso, presto incontreremo le categorie produttive, gli industriali e gli artigiani e saremo prontissimi per partire con la prima scuola in Italia che forma i giovani per la lavorazione della nocciola. Omar Gattuso, IdeaWebTV.it